Musica Allora, qui dove dice? Ariosto, Lodi Allora, in questo testo praticamente Ariosto vuole esprimere il concetto che l'uomo è limitato No, tu No, tu Vuole esprimere il concetto che l'uomo è limitato Bravissimo, bene, molto bene Lodi, l'esame di autorità io l'ho già fatto e mia figlia anche All'isame del più si sta lì intanto a sentire quello che è da dire non ci passa da lì a lì a lì Tu, qui dove dice? Fica No, no No, segno la gloria Fica No, no, no C'è lì più già Il cazzo non è il più Il cazzo non è l'esame